L'attenzione del datore di lavoro verso i propri dipendenti, verso la salute dei propri dipendenti. Questo è un grande progetto fatto di altruismo e di solidarietà. L'emozione è grandissima. La prevenzione continua a essere l'unica arma che abbiamo. La più importante e quindi essere consapevoli di doverlo fare senza aspettare sintomi è essenziale per salvarsi la vita. 88% dei tumori al seno preventivamente diagnosticati vengono curati e in 5 anni non si hanno più ritorni dello stesso. E' fondamentale oggi prevenire, lo si deve fare per curare bene gli italiani e per rendere sostenibile il nostro sistema sanitario nazionale pubblico. Il ruolo importantissimo delle aziende è di divulgare questa cultura ai propri dipendenti, di divulgare ai lavoratori e alle lavoratrici. E riteniamo che questa diffusione e divulgazione sul territorio nel mondo del lavoro sia fondamentale. Grazie a tutti.